Questa sera parleremo di un grande igienista, forse il più grande igienista italiano, che è il professor Augusto Giovanardi. Lo racconteremo come siamo abituati a fare durante queste bellissime serate, come abbiamo fatto con il professor Mangiagalli, con il professor Villa. Quindi avremo una parte di introduzione con l'inquadramento storico da parte del professor Cosmacini, che tutti conoscete come un grande storico di medicina, di storia della medicina, medico e filosofo. Poi avremo la testimonianza da parte del professor Gaetano Fara, che è professore merito di igiene all'Università della Sapienza di Roma, che ringraziamo di essere qui con noi. E poi la dottoressa Parravicini racconterà dell'eredità con il professor Francesco Auxiglia, che è professore di igiene generale e applicata all'Università degli Studi di Milano, quindi gioca in casa. Alla fine, nella seconda parte, come sempre, rivivremo con la magia e la grande arte di Massimiliano Finazzer Flori, avremo proprio l'opportunità di rivivere la figura del professor Giovanardi in carne e ossa, qua davanti a noi, nelle sempre bellissime interpretazioni di Massimiliano. Questa sera poi è anche speciale, perché abbiamo veramente l'onore di avere anche la figlia del professor Giovanardi e le nipoti, quindi ringraziamo veramente molto e siamo molto molto onorati di averle qua con noi. A questo punto passo il microfono professor Cosmacini là lì davanti e quindi lo invito a cominciare l'inquadramento storico e buona serata a tutti. Grazie. Augusto Giovanardi nasce a Monte Gridolfo di Romagna il 23 giugno 1904, predestinato quasi alla medicina per essere figlio di medico condotto. Dal padre Giuseppe aveva tratto un'educazione anche sanitaria che in epoca di scarse risorse farmacoterapiche contro le predominanti malattie infettive contava sulla prevenzione igienica quale principale arma di difesa contro gli agenti di infezione. Studenti universitari a Bologna era stato attirato dalla forte personalità e dalla grande cultura di Donato Ottolenghi, direttore del bolognese istituto di gene. Di lui Giovanardi dirà, se buona scienza è quella che non si astrae dai problemi della vita, ma di tali problemi si alimenta e da essi trae corpo, ben si può dire che egli fu un cultore e un seguace della buona scienza. Laureato nel 1928, Giovanardi aveva ottenuto una borsa di studio per il perfezionamento in igiene e batteriologia della Rockefeller Foundation, che allora sosteneva finanziariamente la stazione sperimentale di Ferrara, mirante, cito testualmente, a chiarire l'azione della bonificazione dei terreni dall'endemia malarica, questione assai di battuta al Comitato di gene della Società delle Nazioni, di cui Ottolenghi era membro. Libero docente di batteriologia nel 1931 e di gene nel 1934, nel 1936 Giovanardi aveva seguito il maestro all'Università di Napoli e nel 1937 aveva assunto per incarico l'insegnamento di gene nell'Università di Siena. In questi anni si era dedicato all'epidemiologia delle infezioni intestinali, in particolare della salmonellosi, con studi poi sfociati nella fondazione del centro italiano delle salmonelle e nella messa a punto di un vaccino antitifico adottato più tardi dall'esercito americano. Del bienio 1938-39, ultimo scorcio di pace prebellica, Giovanardi ricorderà, sono sue parole, il memorabile concorso a cattedra svoltosi a cavallo della promulgazione delle leggi razziali e conclusosi favorevolmente, per me, grazie all'indipendenza di giudizio e rettitudine di alcuni commissari come Dante De Blasi e Giovanni Petragnani, che non si lasciarono influenzare dal clima del momento assai poco favorevole all'allievo di un professore di razza ebraica. Ottolenghi, infatti, colpito dalle leggi razziali in quanto ebreo, veniva nello stesso bienio eliminato dall'università insieme ad altri professori giudei. Nel 1942, Giovanardi era passato a Padova, succedendo nella direzione dell'Istituto di Igiene a Oddo Casagrandi e diventando l'anno dopo Presidente dell'Istituto Interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Tre Venezie. Nel 1945, la Consulta Veneta di Sanità, operante nell'ambito del Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto, in collegamento con i commissari regionali per l'Igiene e la Sanità dell'Alta Italia, aveva affidato per l'elaborazione a una commissione formata tra gli altri da Egidio Meneghetti, Rettore dell'Università di Padova e dal Direttore dell'Istituto di Igiene dell'Ateneo Patavino, Augusto Giovanardi, un progetto di rinnovamento postbellico della sanità. Rievocherà Giovanardi, dal 1947 Direttore dell'Istituto di Igiene nel Policlinico Universitario Ospedale Maggiore di Milano. Il progetto, presentato ufficialmente il 3 settembre 1945, dopo aver puntualizzato le incongruenze del sistema sanitario e assistenziale in atto, ragguagliava, tra l'altro, sulla entità dei nuclei di popolazione da convogliare negli uffici locali, cioè in quegli organismi che dopo la riforma sanitaria del 1978 sarebbero diventati nell'ordine le strutture amministrative unificate di base, SAUB, le unità sanitarie locali, USL, le aziende sanitarie locali, ASL. Quel progetto, dirà con legittimo orgoglio, era ispirato a principi che oggi sono alla base della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Il decentramento regionale delle funzioni pubbliche, sanitarie, l'unificazione dei servizi nell'ambito dell'istituendo Ministero 1958, l'erogazione a livello locale delle prestazioni sanitarie e assistenziali ad opera di organismi unitari, con riferimento all'operosità e preveggenza dei membri di quella Commissione e del suo Presidente, l'allievo e successore di Giovanardi, Gaetano Maria Fara, ha scritto «Quando ancora le armi non erano state deposte, né il Paese riunificato nella libertà, quegli uomini generosi e lungimiranti, già pensavano a una sanità decentrata sulla base di una reale autonomia regionale, un'autonomia che la Costituzione proclamò solennemente già nel 1948, ma che solo nel 1972 si tradusse in leggi attuative». Con sorprendente anticipazione, in quell'eroico momento d'avvio della ricostruzione del Paese, Giovanardi progettò una riforma generale dei servizi sociosanitari e della loro gestione. Decentramento, gestione locoregionale, costituivano la cornice di un quadro dove, assumendo i valori civili e sociali propri di una politica della salute fondata sulla partecipazione attiva di tutti i cittadini. A partire beninteso dai medici, si configurava un servizio sanitario che aveva il duplice vantaggio di rendere tale servizio sensibile ai bisogni e prontamente responsivo. Una grande crescita di prestigio, che era quello proprio di una struttura organica finalizzata a eliminare o ridurre i dislivelli economico-sociali, intollerabili nel campo della sanità. Era parsa così rinascere, dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, l'utopia igienista dell'Ottocento maturo, quello che attraverso l'opera del medico milanese Agostino Bertani, Garibaldino, Mazziniano, eroe delle cinque giornate, consulente sanitario di Agostino De Pretis, e poi di Luigi Pagliani, consulente sanitario di Francesco Crispi, aveva portato alla prima legge di riforma della sanità in Italia nel 1888. Si trattava di un'utopia rinnovata nella coscienza di dover contribuire attraverso la costruzione di un moderno e completo sistema sanitario, non burocratico, ma decentrato e partecipato alla realizzazione del nuovo Stato democratico. Concludo. A Milano, dove conclusi la mia carriera, rievocherà Giovanardi nel 1981, accanto alla riforma sanitaria, i poli delle ricerche mie e dei miei collaboratori furono essenzialmente due, l'epidemiologia e la profilassi delle infezioni da virus, in particolare della poliomielite, dell'influenza, della rosolia, del morbillo, problemi vaccinoterapici e i problemi dell'inquinamento ambientale, in particolare dell'aria e dell'acqua nei grandi centri. E mi taccio sulla tragedia di Seveso, di cui altri dirà. Salus populi suprema, l'ex esto. La salute del popolo deve essere la legge suprema. Amava Giovanardi rievocare le parole, l'incipit con cui Abostino Bertani aveva proposto il codice sanitario due anni prima della legge crispina. Se la salute è il sommo bene, la sanità pubblica non deve essere raccomandata, deve essere comandata. Con le sue parole, Giovanardi rendeva omaggio anche alla propria città d'adozione e al proprio ospedale, a questo ospedale. Con essa ponevi il sigillo alla fede della sua vita, il riconoscimento all'igiene e alla sanità pubblica di funzioni determinanti nella gestione dell'assistenza sanitaria e sociale. Cultura della prevenzione, igiene scientifica, salute collettiva, questo il triplice insegnamento del suo Magistero, perdurante anche oggi. Ed ora l'allievo, il professore Gaetano Maria Fara. Uno degli allievi, perché anche in questa sala ce ne sono tanti. Toccherò alcuni punti, altri li toccherà il professore Ausilia. Io sono entrato al quart'anno come interno all'Istituto di Igiene di Milano, la palazzina che c'è all'ingresso del Policlinico, e fui subito catechizzato da Giovanardi. A parte le lezioni, si sta sempre qui. Se proprio insisti, la domenica pomeriggio è tua. Tutto il sabato e la domenica mattina sono miei. In realtà poi, la domenica a turno, e non solo al mattino, eravamo di Corvè per la visita alle mostre di quadri moderni. Così diventerai meno ignorante, ci diceva. Meta, Milano, Bergamo, Brescia, fino a Torino. E sempre con le nostre auto, di cui ci pagava la benzina. Così poteva vantarsi con noi del fatto che la sua Giulietta, ormai anzianotta, fosse perfettamente in ordine, proprio come nuova. Nessuno si sottraeva, anzi, prima di tutto perché era impossibile. Poi perché erano occasioni per ascoltare, imparare, soprattutto per ragionare. Ma anche la pittura del Novecento Italiano, insegnata da lui, era affascinante. Eravamo in tanti allora, perché in istituto non c'erano solo studenti e specializzanti, ma anche i candidati alla libera docenza, gente che già lavorava nella sanità, che in alcune ore del giorno in istituto produceva scientificamente e anche insegnava. Un primo nome, Saccani, ma anche Volpato, Bonetti, Comelli, Gariboldi, Criscuolo, Faraone, tanti altri, e Salvaggio, che poi diventò professore universitario. Non possiamo dimenticare il grande amico di Giovanardi degli ultimi anni, Vittorio Carreri, che l'ha ricordato nel libro che è recentemente pubblicato sulla vicenda di Seveso. In istituto dominavano Grosso, aiuto, e la Bergamini, l'assistente, fino a che Grosso non è andato in cattedra a Camerino e poi a Bari, dove ha creato una rinomata scuola di igiene. Ma la schiera di noi giovani era lunga. Magliano è qui, ma c'erano anche Braga, Pagano, La Profeta, poi Zanetti, Pontello, Viviani, Ausilia, Tortorano, Pasargiclan, e chi ho dimenticato mi scuserà. Una bella covata che crebbe e diventò importante, al punto che quando io lasciai Milano per Roma nell'86, tra igiene e virologia eravamo in dodici ordinari. Giovanardi aveva interessi anche di ricerca e di insegnamento in campi diversi dalla medicina. Fu lui che affidò a Carlo Alberto Ragazzi, il mitico ufficiale sanitario di Milano, l'insegnamento di igiene edilizia alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico, insegnamento che poi svolse lui stesso, facendo crescere anche un futuro ordinario di ingegneria sanitaria. A me fece affidare l'insegnamento di igiene ambientale ad architettura, insegnamento che persi nel 69 perché professore scientifico, e era una colpa allora, bisognava essere professori politici, questo all'epoca della rivolta studentesca, accarezzata e cavalcata dall'allora preside portoghesi. Poi passata l'ubriacatura, questo insegnamento mi fu riassegnato e lo tengo ancora adesso. Il sogno di Giovanardi però era quello di avere non un medico igienista che insegna agli architetti, ma un architetto igienista che insegna ai suoi colleghi. Questo sogno di Giovanardi l'abbiamo realizzato in questi anni, assieme al mio allievo e collega Carlo Signorelli, con l'aiuto fondamentale di un illuminato preside di architettura, Cesare Estevan. Giovanardi è stato un antesignano delle ricerche sull'inquinamento atmosferico dell'aria esterna a Milano, dopo aver studiato la realtà londinese. Le sue ricerche hanno dato la sensazione della gravità e del pericolo che incombevano su Milano, per l'insieme dell'inquinamento industriale da riscaldamento, seguito solo più tardi dall'esplosione del traffico, ma anche aggravato dal fenomeno dell'inversione termica. Era la città Milano delle due-tre camicie al giorno se volevi rimanere presentabile. Il successo di quelle ricerche portava, oltre a quello di Giovanardi, anche il nome dell'alleanza di Giovanardi con i colleghi Avigliani della Medicina del Lavoro, ma anche con gli ufficiali sanitari del Comune di Milano, prima Ragazze, poi Suzzi Valli, e con i direttori del Laboratorio Provinciale Chimico, l'ultimo dei quali fu Cavallaro, personaggi di un peso scientifico che allora rivaleggiava con quello di un professore universitario. Ci furono anche momenti drammatici nella nostra vita, e parlo di quando le BR presero un po' possesso del policlinico. Allora Giovanardi era già in pensione, ma continuava a frequentare l'istituto. In quel momento le BR cominciarono a colpire la sanità milanese. Ci furono sabotaggi del nostro laboratorio centrale, di cui ero diventato direttore succedendo a Giovanardi. Lui mi incoraggiò a non piegarmi e dovetti denunciare i sabotatori direttamente in procura perché l'allora Presidente insabbiava le mie segnalazioni. Furono pochi anni ma tremendi, e il direttore sanitario d'allora, Luigi Marangoni, che non si era mai piegato, fu assassinato, e diversi capi infermieri sparati, come si diceva allora. Anni, quelli, al cui confronto ogni contrarietà della vita di oggi appare trascurabile. Poi venne l'evento di Seveso. L'evento di Seveso fu per Giovanardi il canto del cigno. Si impegnò a fondo perché da un lato sedeva nel Consiglio Superiore di Sanità, dall'altro lato presideva la Commissione Bonifica Regionale. quindi era già fuori ruolo dal 74, Seveso fu del 76, e sarebbe andato a riposo nel 79, ma fu attivo e lucido come negli anni della maturità. Seveso gli deve molto, ma altrettanto gli devono coloro che a Seveso o per Seveso hanno lavorato in quei duri anni. Quello che Giovanardi ha fatto in quell'occasione, ripeto, è ricordato nel bel libro di Vittorio Carreri, ma è un ricordo di tutti i suoi allievi che gli sono stati vicini in quel periodo e con lui hanno lavorato duramila. Grazie. Prendere la parola dopo l'inquadramento cosiddotto del professor Cosmacini e l'appassionata testimonianza del professor Fara non è facile, però sono contenta di fare una riflessione se voi la condividete. Noi abbiamo parlato e abbiamo nel primo incontro ricordato Mangiagalli proprio per la sua organizzazione medico-politico, fine politico e quindi curava i rapporti anche con un mondo che non era strettamente medico. Poi abbiamo affrontato Villa, il professor Villa, il ricercatore nato che ha spinto tanto perché la ricerca anche in Italia potesse evolvere e credo che Giovanardi che abbiamo scelto come terzo sia un po' la sintesi di queste figure. Quindi da una parte il fine anche lui, politico, fondamentalmente Giovanardi cosa ha fatto? Si è dedicato alla sanità pubblica e dedicarsi alla sanità pubblica vuol dire tutte queste cose insieme. Devi conoscere la politica ma devi anche fare la ricerca, apprezzarla e scegliere la ricerca migliore perché la sanità possa fare progressi. Ecco, questo non è da tutti e questo io ho imparato nel preparare questa serata dedicata a lui per la quale veramente ringrazio ancora i familiari che sono presenti e tutti gli amici collaboratori e allievi che sono qui. A questo punto entriamo un po' più nel vivo di quella che è l'eredità di Giovanardi e quindi ho con me il professor Auxilia che in questo senso è l'erede suo in policlinico e in università. Giovanardi è stato 25 anni a Milano se ho fatto bene i conti ed è stato a Milano fino al 74 come ha ricordato bene il professor Fara. Ecco, a che cosa si è dedicato prioritariamente e a che cosa ha lasciato? Allora, intanto grazie a tutti per essere qui. Io tra l'altro mi sento veramente schiacciato di fronte a questa figura così importante così rilevante tra l'altro anche per me è stata un'occasione di ripercorrere alcuni suoi scritti e convincermi ancora di più della sua grandezza. Io tra l'altro sono arrivato a Milano quando il professor Giovanardi aveva concluso ormai la sua carriera però continuavo a frequentare saltuariamente l'istituto e ricordo l'aura di timore con la quale lo incontravo avendo nella mente gli aneddoti i ricordi i racconti dei suoi allievi il professor Fara e del professor Pagano che me ne avevano parlato anche prima del mio arrivo a Milano. Io oltre alle cose che il professor Fara ha ricordato le vorrei ricordare qualche altra in particolare la grande lungimirante azione che il professor Giovanardi ha condotto e che ha portato all'istituzione dell'istituto di virologia alla fine degli anni 50 perché quella è una pietra miliare in quanto effettivamente con il contributo della Rockefeller Foundation si è impostata una lotta efficace nei confronti della poliomielite che era ancora nel nostro paese un grossissimo gravissimo problema di sanità pubblica e il professor Giovanardi non solo ha trovato naturalmente i mezzi per poter dare luogo a quella istituzione che è ancora pietra viva tutt'oggi ma ha anche estremamente combattuto per difendere le proprie idee relativamente a quella che deve essere la politica vaccinale da seguire nel nostro paese e tra l'altro l'istituto di virologia allora istituito viene descritto molto bene negli scritti del professor Giovanardi che segnala come questa struttura dovesse essere una struttura di secondo livello e dovesse aiutare le strutture sanitarie a approfondire le conoscenze la diagnostica e attuare la sorveglianza delle infezioni virali naturalmente vorrei anche ricordare come il professor Giovanardi avesse a cuore la formazione della classe medica ricordo quanto lui ha scritto in funzione della riforma degli studi medici e di come anche il medico di primo impatto dovesse essere un medico preparato sulla prevenzione e come l'igiene dovesse evolvere soprattutto tenendo conto dei cambiamenti epidemiologici che sono propri di quegli anni ma non solo il medico io voglio qui ricordare anche come il professor Giovanardi avesse a cuore la formazione anche del personale non medico e in particolare come avesse a cuore la formazione del personale infermieristico il professor Giovanardi è colui che ha fondato a Milano la scuola universitaria di discipline infermieristiche e questo è stato veramente credo un'ulteriore pietra miliare nella costruzione della qualificazione professionale perché quella scuola che aveva oltretutto una forte sollecitazione a differenza di altre iniziative analoghe sulla ricerca e sull'insegnamento ha poi dato origine agli studi attuali di qualificazione magistrale delle professioni infermieristiche ecco tu hai citato l'importanza della sorveglianza dei casi ad esempio dei casi di poliomialite perché è così importante cioè di solito magari si pensa che c'è la malattia c'è la vaccinazione tutti si augurano che questo funzioni e il discorso finisce lì invece no la lungimiranza è stata proprio quella di dire non basta lavorare per la vaccinazione qui vogliamo ricordare l'impegno per il vaccino contro la poliomialite tanto che i suoi contatti con Sebin sono stati sempre molto stretti tra l'altro è molto bello che nella fotografia che abbiamo messo per richiamare questo appuntamento e sono ritratti insieme ecco qui voglio ringraziare il professor Zanetti che ci ha fornito la fotografia e che per tanti anni ha retto l'istituto di virologia proprio creato da Giovanardi qui in prima fila quindi grazie professore ecco ma perché è importante la sorveglianza non bisogna mai dimenticarselo e voi continuate per quali per quali malattie continuate questo programma di sorveglianza sì Dio professor Zanetti potrebbe rispondere molto meglio di quello che posso fare io certamente c'è un programma credo noto a tutti di eradicazione della polio a livello mondiale il centro attualmente è un centro che collabora con l'OMS e quindi fa la sorveglianza proprio per monitorare le paralisi che si verificano e per verificare che non siano di origine da virus polio quindi la sorveglianza è importante in funzione dell'eradicazione così come altre sorveglianze che vengono attuate sono quelle contro sono quelle per il virus del morbillo quindi il morbillo e la rosolia quindi questi sono aspetti che tuttora vengono monitorati dall'istituto di virologia che adesso è confluito in un dipartimento più grande questa logica voi fate parte anche del network per il monitoraggio dell'influenza esattamente questo è questo è un network nazionale di cui appunto i laboratori di virologia che sono appunto laboratori di secondo livello contribuiscono e quindi individuano precocemente i virus circolanti contribuiscono alla definizione di quelli che sono poi i vaccini la composizione dei vaccini e monitorano l'andamento dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale ecco io vorrei concludere ricordando proprio l'attualità cioè anche questo incontro veramente cade in un momento in cui si parla di vaccinazione tutti voi ne sentite parlare ad ogni momento quindi l'attualità di questo uomo che tanto si è prodigato perché la vaccinazione antipolio diventasse obbligatoria a metà degli anni sessanta l'attualità in termini di inquinamento perché chi non è preoccupato dei problemi dell'inquinamento della nostra città Giovanardi aveva già intuito come ci ricorda il professor Fara che a causa di questo inquinamento era sicuramente il sistema di riscaldamento della città di Milano ma anche il traffico veicolare un altro argomento di grandissima attualità di cui il libro intitolato la fabbrica sporca del professor Carreri Tratta è la diossina la diossina che è tornata all'onore della cronaca proprio per il disastro di Pomezia ecco avessimo voluto organizzare un incontro di attualità non avremmo potuto fare meglio io credo quindi a questo punto siamo pronti per vedere questo personaggio e a questo proposito voglio ricordare che Massimiliano Finazzer Flori userà anche un effetto scenico che credo vi sarà gradito per cui a questo punto noi ci togliamo di torno e lasciamo a lui la platea mentre aspettiamo mentre aspettiamo Massimiliano allora approfittiamo perché abbiamo qui il professor Magliano altro allievo del professor Giovanardi che magari ci dice qualche cosa di questa passione per l'arte che ha trasmesso in qualche misura condiviso con voi una mattina siamo agli inizio degli anni 70 andai a casa di Giovanardi perché dovevamo andare forse a vedere qualche convegno e salì nel suo appartamento nella sua bella villa a San Siro e Giovanardi mi disse aspetta Magliano arrivo subito io che figlio di collezionista appassionato fanatico d'arte moderna mi siedo in questo salotto guardo a sinistra e vedo un Morandi del 14 futurista che per un appassionato d'arte è una follia perché Morandi ha fatto due quadri futuristi uno è a Buburgo a Gran Palais e l'altro era lì mi volto ancora il gasometro di Sironi che per gli appassionati d'arte è una medaglia è come vedere Napoleone questo gasometro che era il massimo lui riusciva a cogliere il massimo dei pittori era il massimo dell'espressione di Sironi nella sua arte nel novecento mi ricordo che la cornice l'aveva disegnata Sironi e l'aveva fatta Marconi il vecchio corniceo di Milano Marconi aveva fatto la cornice per il quadro di Giovanardi sul disegno stesso di Sironi per cui già la cornice è un capolavoro e poi guardo in un'altra parte Licini Licini che Giovanardi aveva capito allora non hanno capito ancora oggi Licini perché il professore diceva che Licini era un grandissimo e quando lo capiranno sarà uno dei più grandi pittori italiani novecento e poi Giovanardi non aveva dimenticato gli altri perché c'era un Campigli mi ricordo la donna di spalle di Campigli che era una cosa da morire un collezionista d'arte crepa di invidia sviene a vedere una cosa così bella ma poi lui ricordava anche altri De Pisis i più leggeri i cosiddetti mi ricordo che c'era un De Pisis con una bottiglia di champagne strepitosa e poi aveva qualcosa di incredibile io ogni tanto andavo come autista mi è scappata questa parola ma era già un privilegio esserlo quindi era invidiata questa mia carica ufficiale per le gallerie quando si entrava nelle gallerie stavo da Ghiringhelli al milione per modo di dire mi rivolgo alla figlia quando entrava Giovanardi c'era un'atmosfera di tensione perché Giovanardi quando guardava i quadri era micidiale era un microscopio animato dall'amore era una cosa pazzesca ma Giovanardi per me non si occupava del valore del quadro del valore commerciale lui ha sempre visto un altro valore nell'opera d'arte captava nel quadro l'essenza e finisco dicendo questo una volta lo accompagnavo eravamo andati a Recoaro perché Giovanardi ha avuto anche un merito di essere un igienista che ha dato un contributo all'igienizzazione di alto livello delle acque minerali eccetera alle otto e mezza usciamo da questi laboratori da questi uffici Giovanardi mi fa senti Magliano a Scorzè c'è un albergo un riscorante che ha un rosai e mi sembra che lo vogliono vendere e siamo andati a Scorzè questo era a Giovanardi per me è stato un privilegio potergli vivere vicino e ancora oggi mi ricordo i suoi insegnamenti ma mi ricordo come guardavo a lui i quadri e era una cosa per un amante dell'arte irresistibile grazie 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 non vi è persona più utile e più degna di quella che trascorrere la vita per ricercare i mezzi per prolungare la nostra esistenza e per conservare la salute che da tante cause può essere disordinata queste parole vengono dalla Grecia da Ippocrate io venivo da Montegro Montegro in provincia di Rimini confine con le Marche da lì si scorge si scorge l'Adriatico una rocca malatestiana ma io venivo anche da una scuola una scuola di ottimismo perché io sono ottimista e non ho fretta la scuola la scuola la scuola era quella di Ottolenghi seguace della buona scienza era aiuto a Napoli nel 36 quando nella imminenza del concorso per ordinario quando il mio maestro perse la cattedra motivo raziale razziale solo la correttezza e il grande coraggio del professor Califano allora patologo generale di Napoli si oppose a cui io venissi sacrificato unicamente perché allievo di un ebreo ebbi sempre per lui una devozione come dire filiale un'altra ammirazione sempre filiale ebbi anche per Scravio Achille Scravio che nel 1926 fondò l'associazione italiana per l'igiene la mia passione sono sempre stati le organizzazioni della sanità perché la mia passione forse è la salute dell'uomo comunque sotto Scravio sotto la sua guida sapiente gli seppe in qualche modo trasfondere in esse le risorse del suo vivido ingegno e anche l'entusiasmo del suo grande cuore quante figure signori di indimenticabili maestri nella nostra vita abbiamo visto avvicendarsi approdai qui qui vicino a Milano era 1948 io svolsi ricerche credo nella mia vita credo piuttosto originali misi appunto un vaccino antitifodeo e l'acetone compii i primi studi scientifici sull'abbigliamento come sapete mi occupai anche di inquinamento di interazione micro macro ambientale ma soprattutto contribuì a studiare e anche a eradicare la malaria e a vincere la tubercolosi nel delta del Po ma era il 45 in compagnia di altri scienziati intellettuali studiosi di cui voglio ricordare concetto marchesi che nell'ambito del comitato di liberazione nazionale noi ci occupammo di una rivoluzionaria idea di ordine della sanità del resto la riconquista della forma democratica dello Stato autorizzava finalmente a superare il sistema precedente frammentario ispirato a un mutualismo corporativo un mutualismo corporativo che credo non avesse più ragione di essere noi pensavamo a qualcosa di diverso prefigurevamo insomma un servizio sanitario nazionale prontamente responsivo e bisogni di tutta la popolazione partecipato non burocratizzato legato al territorio agli enti decentrato questo pensavamo insomma sembrava che qualcosa potesse rinascere dalle macerie della seconda guerra mondiale la costruzione di un moderno sistema sanitario che potesse aiutare potesse accompagnare un nuovo stato dunque con chiarezza e crediamo con lungimiranza il comitato da me anche guidato proponeva l'istituzione dunque di questo servizio sanitario nazionale uniforme ma per essere funzionale una struttura di questo tipo per essere idonea utile efficiente efficace dunque produttiva io credo credevamo che dovesse richiedere un uso estensivo della epidemiologia sfortunatamente la proposta nostra venne accantonata per valsero scelte politiche piuttosto diverse conservatrici che mantenono con alcuni adattamenti qualcosa che proveniva dal ventennio fascista ebbene l'istituzione del servizio nazionale ha dovuto attendere più di trent'anni un potenziale stimolo a un meno lento sviluppo della epidemiologia hanno dunque perso voglio comunque contribuire culturalmente alla riforma che arriverà molto più tardi come sapete nel 78 all'833 78 sì fu una riforma che però dato il momento politico consociativo in cui venne approvata si tradusse tuttavia in un compromesso pieno di contraddizioni ricordo chi ribatteva o chi affiancava questa riforma indicando il mio nome come il padre rispondevo altro che figlia questa riforma è una figliastra comunque a differenza di tanti miei colleghi io non fui mai geloso dei miei allievi quando vennero i miei 70 anni in quell'occasione sorpresi più del previsto e più dell'atteso non pochi dei miei colleghi io non voglio sfruttare signori il fuori ruolo per mantenere il mio potere no io dissi è l'ora degli allievi staccai dall'igiene via Pascal creando l'istituto di virologia e lo fidai alla Bergamini a proposito della Bergamini dietro la sua scrivania c'era un gottuso che bel gottuso i tetti di gottuso decisi poi anche di affidare quello di igiene pensavo a Fara allora Fara era poco più di un trentenne ma lui voleva assicurarsi che i miei altri allievi in giro per l'Italia non si sentissero bypassati e io mandai lui così insomma diciamo a interrogarli l'uno ad uno in coro gli risposero noi siamo padroni in casa nostra tu sei giovane e poi ancora stare sotto padrone così fu Fara il mio erede ma io rifiuto l'idea che si trovò ancora sotto padrone furono anni di convivenza certo non facile e delicata però l'affetto reciproco e la stima ci aiutò a questo delicato equilibrio tuttavia questi accidenti anagrafici non mi impedirono di continuare a influenzare credo positivamente tutti i miei allievi soprattutto non mi hanno impedito di continuare a criticarli anche severamente cosa che non ho ancora smesso di fare ricordo era il 1980 1986 quando un mio allievo in procinto di correre per una cattra alla sapienza e incerto sull'affarsi mi chiese consiglio e gli dissi se tu tentassi e non importa quale sia l'esito quale sia il risultato del tuo tentativo se tu non tentassi passeresti il resto della tua vita a domandarti se hai fatto bene o male a rinunciare i miei allievi erano sempre piuttosto affascinati dalla mia non solo dalla mia capacità di lavoro dalla mia tenacia ma credo anche dalla mia capacità di trovare del tempo del tempo vicino al mio tempo di lavoro il tempo che io dedicavo fuori dal mio lavoro quel poco tempo era certamente indicato all'arte era l'arte moderna io frequentavo maestri mostre collezionavo capolavori era un'ammirazione certo messa a dura prova invitavo tutti diciamo così li invitavo ad alzarsi piuttosto presto più o meno alle 5 del mattina e poi li costringevo così per accompagnarmi con la mia giuglietta color suo verde acqua certo non era così gradito quell'ora tuttavia comunque la vicinanza e colloquio la trasmissione di conoscenze tutto questo ci aiutava non era possibile durante le giornate di lavoro insomma nessuno pensò mai di sottrarsi era in fondo il loro regista descritto con le loro parole cappello marrone in testa mi alzavo alle 6 del mattino subito in ospedale fino alle 12 poi sparivo più o meno fino alle 16 perché il riposo il sonno di mezza giornata per me era sacro e poi restavo in ospedale fino a notte e quando vedevo i miei allievi un po' provati dal panino da 8 ore di lavoro li prendevo in giro dicevo ma come siete stanchi guardate me guardate me alla mia età insomma dicevo sempre parafasando il poeta americano Sant'Ajana chi ricorda il proprio passato è condannato a riviverlo arrementavo anche un altro grande maestro dell'igiene romana sì Angelo Celli che le 1881 ancora diceva che l'igiene pubblica allora viveva in ibrido connubio con altre discipline come la medicina legale ma anche laddove si staccò si separò da essere per certi versi non interessava interessava così poco ad essere affidata a chi era diventato piuttosto inetto ad altri insegnamenti ma no signori ora la disciplina è viva è protagonista eppure non è ugualmente concesso attendere da voi che qualcuno venga a garantirvi il vostro futuro questo devo dirlo molto chiaramente siete voi stessi chiamati qui a svolgere un duro e paziente lavoro di ricerca io credo soprattutto come ho detto essendo ottimista io credo che si debba qui rinnovare una scommessa alle generazioni che verranno che si affacciano alla ribalta delle università ai giovani che Dio ci mantenga sempre fedeli a questo messaggio a questa giovinezza di mente e di cuore modelli corpi anticorpi virus effluenzale recettori ancoraggio invasione era novembre il 25 novembre 1958 inaugurai la nuova sede del centro di virologia non fu un'impresa facile ci riuscimo grazie alla merced della magnificenza della fondazione Rockefeller e debbo dire giunto il termine un po' stanco per la lentezza dei finanziamenti ma Milusingo che ora soddisfi e che risolva e affronti le esigenze che mi hanno così tanto preoccupato anche se debbo dirvi che la realizzazione di questo centro è stata un'operazione piuttosto faticosa in questa città Milano operosa metropoli in cui si irrigano grattacieli si trasformano radicalmente distretti qualcuno forse dirà che siamo stati lenti forse dovevamo essere più veloci ma perché mi chiedete perché mi domandate perché mi sono dimesso dal Consiglio Superiore della Sanità per poter imporre il vaccino il vaccino Sebi contro contro la poliomielite contro le decisioni del governo nazionale voleva utilizzare l'altro vaccino il vaccino è efficace meno efficace il problema della vaccinazione contro la poliomielite sapete è un problema aperto la discussione continua è una storia questa della vaccinazione con virus vivente attenuato è una storia piuttosto recente credo che iniziasse o fosse iniziata con un articolo di Koproski nel 1950 1952 l'argomento vaccino è diventato nevralgico e lo so divide la popolazione in favorevoli e contrari ma che voi appartinate ai primi e agli altri non cambia la questione è un'altra Albert Bruce Sabin va riconosciuto un merito indiscutibile grazie a lui grazie a lui la poliomielite è stata debellata mi corrego grazie anche a lui infatti condivide il merito con un altro nostro collega Jonas Edward Sark ma il suo vaccino è stato decisivo tuttavia torniamo un attimo indietro perché se no non possiamo fare i conti con la storia torniamo all'inizio del novecento quando le epidemie di poliomielite si ripetevano a intervalli sempre più regolari con esiti anche fatali si raggiunsero cifre verso gli anni 50 che in campo medico decretarono la ricerca la nostra ricerca come obbligatoria il vaccino era una assoluta priorità ed è in questo scenario signori di paralisi polmoni d'acciaio di decessi che Sark mise appunto il primo vaccino antipodio nato sulla traccia ovviamente di quello dell'influenza consisteva nell'utilizzo di un virus inattivato questa procedura garantiva indubbiamente maggiore sicurezza infatti si bypassava il corso delle malattie in forma lieve si passava direttamente alla stimolazione come dicevo degli anticorpi le epidemie ottennero una rassicurante diminuzione ma poi nell'aprile del 55 si verificò quello che venne battezzato l'incidente Catta una spaventosa sciagura farmaceutica nel murinello del commercio finì un lotto di vaccino non abbastanza inattivato composto ancora da un virus vivo virulento che causò migliaia di nuovi contagi devo dirvi anche decessi ed è fu allora che Albert Bruce Sabin si aprì più di uno spiraglio di speranza il suo vaccino già messo a punto a differenza di quello di Sark prevedeva l'inoculazione prevede intramuscolare di un virus vivo ma signori ma attenuato in America lo so incommeva l'ombra pesante della popolarità del predecessore il vaccino Sabin non trovò con senso facile ma la prima nazione a fornire a Sabin l'opportunità di una produzione del vaccino su base industriale fu la Cesco-Slovacchia poi l'URSS e infine la Germania in cui si verificò più nessun caso di poliomilite il muro della diffidenza era stato abbattuto furono prodotti messi sul mercato notevoli quantità del vaccino e anche gli americani dovettero arrendersi all'evidenza Sabin fu il riconoscimento mondiale della sua scoperta caro Albert caro amico sapete non vuole nemmeno non vuole nemmeno un dollaro preso straordinario brevetto fisso solo una condizione avrebbe autorizzato gratuitamente il suo brevetto purché le autorità nazionali avessero adottato il suo vaccino capite per un genitore vaccino la vaccinazione è un tema controverso per un figlio è certo è un dubbio lecito ma ha un senso se noi ragioniamo qui questa sera soltanto su un singolo caso i pochissimi bimbi non vaccinati corrono un rischio molto remoto di ammalarsi perché sono inseriti in un contesto sociale in cui più la maggioranza è vaccinata ma bisogna considerare forse questo non è del tutto chiaro che la protezione del virus diminuisce con l'aumentare del numero dei soggetti non vaccinati oggi la poliomirite è ancora diffusa come sapete Afghanistan Pakistan ma in più di un'occasione abbiamo assistito a recrudescenze epidemiologiche che sembravano non possibili è bene che vi dica che le persone si muovono e i virus pure l'igiene pubblica è medicina politica e io lo so bene e sono perfettamente d'accordo da questo punto di vista con il grande clinico di Roma Baccelli creatore nel 1903 del policlinico legine pubblica e responsabilità sarà forse per questo che io firmavo i miei referti in modo chiaro intellegibile Augusto Giovanardi in quegli anni 70 quando ferveva il dibattito tra i partiti e le istituzioni si attuava un compromesso storico e la scena internazionale era piuttosto confusa serviva chiarezza bisognava fornire degli esempi dunque decisi di scrivere questo articolo più di un articolo per aprire una discussione ma anche per dare voce per dare voce ai medici voglio riportare un caso un caso piuttosto curioso interessante in Gran Bretagna si chiama ospedale di comunità è una piccola unità costituita da 50 150 posti letto che serve una popolazione mediamente tra i 30.000 e i 150.000 abitanti seconda della popolazione e della viabilità e si trova nei pressi sorgi vicino a un ospedale invece di comunità un ospedale generale che di solito vanta tra i 600 e i 800 posti letto devo dire che è interessante perché non ha un organico di medici servizi diagnostici certamente indispensabili portati avanti da un corpo di infermieri reclutati a tempo pieno localmente e ricovera pazienti inviati dai medici di base appena dimessi dall'ospedale di distretto ma bisognosi ancora di cure poco specializzate quasi sempre di tipo riabilitativo e consente ai suoi malati questo mi sembra importante siamo nel 1976 va ricordato di restare nel luogo in cui essi sono vissuti hanno mantenuto rapporti di vicinanza permettendo così frequenti visite da parte di amici parenti con degli innegabili vantaggi sul piano psicologico sociale affettivo e questo lo dico perché ci è da chiedersi ovviamente se questo ospedale britannico sia realmente producente intendo dire se questo vale a procurare in tutto o perlomeno in parte i benefici attesi dal nostro punto di vista degli nostri studi ma va detto e va ribadito e sottolineato che la soluzione inglese o meglio lo spirito che permea la soluzione inglese dovrebbe a mio avviso essere ascoltato da quei tanti riformatori che ci girano intorno anche perché due anni dopo a quello che io scrissi la domanda era nell'aria anzi era nelle accorsie degli ospedali come uscire dallo sfascio dei servizi sanitari è chiaro i segni del dissesto sono così patenti che per rilevarli non occorre neanche più l'aiuto di un tecnico è sufficiente leggere i quotidiani è sempre più frequente la segnalazione di disfunzioni inconvenienti spesso rilevanti nell'assetto igienico sanitario non solo degli ospedali degli istituti di ricovero ma penso anche a scuole penso a fabbriche infezioni ospedaliere ce ne sono specialmente nei rapporti pediatrici inquinamento acquedotti con epidemie più o meno estesi da infezioni intestinali di anomalo smaltimento dei rifiuti industriali e conseguente contaminazione chimica da solventi clorurati oppure da metalli pesanti d'acque costiere fluviali lacustre nonché da acque sotterranee penso anche all'acque di falda infrazioni ve ne sono di norme dell'insediamento e di condizioni di industrie con occasionali pericolosi dispersioni di materiali tossici gassosi liquidi e solidi nei locali di lavoro e anche nell'ambiente anche l'eliminazione dei rifiuti solidi tema di questi tempi intendo dire l'immondezza è oggetto di contrastanti valutazioni non vi è chiarezza forse il segno più conturbante tuttavia di questo scadimento va poco poco invadendo le nostre infrastrutture igieniche o sanitarie sul territorio riguarda ciò che sta accadendo in alcuni ambienti intendo dire scolastici con la ricomparsa della pedicolosi anche in regioni economicamente piuttosto evolute quali sono le cause sono numerose ma io vorrei sottolineare in particolare una che mi sembra preoccupante ovvero da un lato si va accentuando l'ineguatezza dei servizi a livello territoriale di utilità di produttività e soprattutto delle strutture analitiche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi ma dall'altro sta crescendo aumentando la domanda di quei servizi proprio da parte degli enti locali dello Stato e dunque credo giusto lecito domandarsi i nostri riformatori legislatori ed economici così preoccupati dalle esigenze economiche della riforma avranno il tempo e il modo di ascoltare le osservazioni di noi tecnici lo sapete io sono ottimista e non ho fretta erano circa le 12.40 quando abbiamo visto da circa un chilometro di distanza dalle abitazioni da una fabbrica a sollevarsi una nube biancastra a star lì ferma come se ci guardasse poi questa nube spinta dal vento lentamente si è avvicinata e bruciavano gli occhi sì sì bruciavano poi il giorno dopo abbiamo visto le foglie delle piante i fiori tutti tutti rinsecchiti come buccherellati da granelli microscopici non capivamo cos'era successo la testimonianza di un cittadino di Seveso a una settimana esatta dall'incidente avvenuto nello stabilimento chimico ICMESA istituto chiamato come industria chimica MEDA società anonima che dal 1947 era anche nota come la fabbrica dei profumi e degli erbicidi una reazione incontrollata in un settore dell'impianto fa salire la temperatura a circa 500 gradi e scoppiare le valvole di sicurezza e uno dei reattori causando il rilascio di un micidiale vapore chimico nell'atmosfera e un fungicida che sopra 150 gradi si trasforma in 2378 treta cloro di benzoparadiossina è una delle varianti particolarmente tossiche della diossina quel vento disperde il veleno nell'area circostante vengono intossicati gli ambienti gli animali gli abitanti e si deposita pericolosamente su abitazioni su terreni l'allarme signori l'allarme non verrà dato immediatamente il sindaco del comune di Meda sede dell'Iquimesa viene avvisato dai tecnici da due tecnici ma il giorno dopo quella nube quelle particelle solide di diossina fu uno shock per l'Italia io ero in pensione da due anni ma ero ancora molto attivo pensai a mio parere solo individuando le cause di un'offesa alla salute legata all'ambiente allo stesso organismo evidenziando le modalità di distribuzione nel tempo nello spazio in altre parole solo associando alle indagini etiologiche esatte altre indagini epidemiologiche l'igiene può intervenire può riacquistare autorità e prestigio affrontare con speranza di successo questi problemi l'evento come noto si verificò di sabato era 10 luglio esattamente alle 12 e 37 non era previsto un turno di lavoro c'erano solo alcuni operai di manutenzione peraltro qualcuno addirittura sostenne i beninformati che forse non ci doveva essere nessun testimone certo i motivi fono accidentali nel reattore del reparto del reparto B dell'ecmesa ci fu questo mente incontrollato della temperatura della pressione che peraltro non erano neanche monitorate da strumenti idoni di controllo questo va detto e neanche relativi allarmi fino a far scoppiare una valvola di sicurezza che non era conforme al progetto originario la valvola tuttavia fece fortunatamente il suo dovere purtroppo come la buona tecnica insegnava anche allora quella valvola doveva essere collegata con un apposito tubo capace di incanalare e raccogliere il materiale in idonea fosse interrata in grado di contenere queste numerose e pericolose sostanze chimiche liquide e solide fuoriscite totalmente il peso è stimato più o meno in 3.000 kg 3.000 kg furono immesse liberamente nell'ambiente circostante e non solo gli incauti proprietari gestori responsabili dello stabilimento che per risparmiare poche migliaia di lire avevano provocato quel disastro furono costretti per ragioni varie per responsabilità alla fine con il loro comportamento grave è indiscutibile pagare 200 dico 200 miliardi di lire risarcimento anche questa drammatica vicenda credo si possa imparare qualcosa la prevenzione sanitaria conviene anche ai produttori si lavorò di giorno e di notte si mappò il territorio i comuni maggiormente inquinati erano Seveso Meda Cesano Maderno e Desio delicato lavoro è difficile ma devo dire straordinaria competenza dei laboratori provinciali di igiene profilassi l'università l'istituto superiore di sanità l'evento del diossina ebbe molti che lavorarono bene per la prevenzione e la tutela e la salute pubblica salvaguardando ambienti di vita e di lavoro attraverso questa lezione non possiamo fare a meno di moderni laboratori sanitari e ambientali essi devono esercitare con i dipartimenti di prevenzione efficace ed efficiente controllo ma torniamo ai fatti la nube tossica prodotta dalle incidenti si spostò gradualmente a seconda dell'andamento dei venti per circa sei chilometri verso nord creò preoccupazioni a sei rilevanti milioni di persone Brianza Milano e fu stabilita l'evacuazione in base ai dati ambientali ed epidemiologici 212 nuclei familiari 732 persone furono coinvolte direttamente e complessivamente l'impatto con la Dessina interessò 120.225 persone il territorio inquinato alla fine coinvolgeva 1810 ettari desto grande impressione anche la moria e l'abbattimento degli animali 162.000 140 la nube sorvolò 11 centri urbani nella campagna da Milano fino al lago di Como e già dopo pochi giorni si segnalavano i primi casi di intossicazione alimentare il furono di bambini colpiti da questa nube tossica ricoverati presso l'ospedale di Mariano Comense altri al Niguarda 4 4 bambini al Niguarda di Milano nella fabbrica chimica di Meda lavoravano 170 operai producevano più o meno una trentina di sostanze chimiche da qualche tempo anche un diserbante tricolofloro TCP il triclorofenolo non era stato autorizzato questa sostanza chimica con altre 4 prodotte dall'Icmese era peraltro compresa nell'elenco dei prodotti dell'industria insalubri di prima classe pertanto la normativa nazionale stabiliva che tali industrie non potessero essere ubicate nei centri urbani ma sia una distanza delle abitazioni civili come ho prima detto di almeno mille metri mille metri mentre gli operai ovviamente si rifiutavano di lavorare il sindaco di Meda ordina la chiusura dell'Icmese e il pretore di Desi apre un'inchiesta che porterà all'arresto per omicidio colposo del direttore ed è il suo vice per disastro colposo nella settimana successiva al disastro l'intera area colpita viene militarizzata e mappata in tre zone diverse ma solo 16 giorni successivi o meglio dal 26 luglio le autorità locali decideranno di evacuare gli abitanti ormai largamente esposti alle polveri tossiche in numerosi casi già vittime degli effetti terribili della contaminazione in primis una malattia la cloracne che procura delle pustole di lunghissima e difficile eliminazione e un'infiammazione dei follicoli piliferi delle ghiandole sebacee della pelle che colpisce il volto il collo il tronco e i genitali dunque era già tutto chiaro come avete capito tutto chiaro dopo due giorni dell'incidente eppure fu dato l'ordine dei proprietari svizi di tacere con le autorità italiane l'ICMESA negli ambienti svizzeri era infatti chiamata come verrà ben scritto dopo dal dottor Carreri DREC fabbrica fabbrica sporca la soluzione più idonea a questo punto era il nostro tema il nostro problema lo smaltimento di materiali più inquinati doveva avvenire in un moderno impianto di incinerimento previsto per la zona A sfortunatamente questa soluzione fu respinta non da noi ma dai consigli comunali di Meda e Seveso e anche da movimenti ambientalisti delicato problema ci furono anche ripetute manifestazioni e problemi la regione alla fine fu costretta ad accettare questa soluzione devo dire discutibile dell'interramento di materiale inquinata in due grandi vasche in attesa di una soluzione finale mi nominarono responsabile della commissione che si sarebbe occupata della bonifica dei territori hanno lavorato bene sì hanno lavorato bene non solo gli operatori sanitari ma anche molti colleghi Dioguardi Pocinelli Fara Candiani Garattini Tognoni Paoletti Remotti Morganti Foà Cattabene Galli Dardanoni e molti altri nella zona un tempo la più inquinata è successivamente bonificata come sapete è stato poi istituito il bosco delle querce tuttavia la critica la critica più aspra in quel momento non era contro i proprietari contro gli autori di questa sciagura di questo disastro la critica era contro le istituzioni mentre i dirigenti intanto della Roche erano stati condannati unici condannati nei processi di primo grado appello e cassazione io questo non me lo sono mai spiegato credo tuttavia che il tema il punto il problema sia stato quello che non siamo stati capaci non siamo stati capaci di comunicare bene i fatti la notizia dell'incidente diventa di dominio pubblico si diffonde il panico per la tossicità della diossina in particolare il cangerogeno a causa possibili possibili malformazioni di fetti tanto da far introdurre nei comuni colpiti dalla nube una deroga all'avorto in quel momento ancora non legalizzato la questione fu di grande discussione momenti difficili drammatici per le istituzioni per i movimenti per la convivenza civile nei comuni inquinati della diossina ebbene sono state scritte anche delle falsità in questa vicenda alcune perfino clamorose sono contrapposti gruppi non certo rilevanti sul piano scientifico a specialisti di chiarissima fama e genisti che in spregio delle loro carriere delle loro onorificenze hanno scelto la strenua difesa della salute pubblica della sanità da questa vicenda uscimo con anche un'esperienza io ebbi l'occasione di accompagnare l'allora presidente della regione il dottor Cesare Golfari e il dottor Carreri a Roma andammo a Roma perché eravamo preoccupati del ritardo dei lavori di risanamento ci servivano più mezzi risorse economiche chiedemmo e ottenemmo un incontro un appuntamento con l'allora presidente del consiglio l'onorevole Giulio Androtti l'incontro avvenne nei primi giorni di autunno alle prime ore del pomeriggio in un piccolo studio parlò poco il presidente del consiglio ascoltò di noi parlò soprattutto Golfari noi eravamo seduti dietro io mi sono portato sempre il mio cappello un borsalino sì lo tenevo in testa e ascoltavo ascoltavo il presidente della regione si batteva con grande energia l'incontro finì ci congedammo ci avviamo all'aeroporto torniamo a Milano a quell'epoca uscivano dei giornali pomeriggio forse ricordate la notte il paese sera leggemo i giornali come legora con sorpresa grande titolo il governo ha approvato 43 miliardi per Seveso dopo il disastro di Seveso l'Italia ha cominciato a lavorare sulla legislazione ha cercato di mettere un freno pratiche industriali che ci sembravano gravi pericolose e anche a livello europeo cominciamo a fare qualcosa con una legislazione che riguardava gli apparati industriali in particolare con la EC ovvero 82 501 chiamata appunto direttiva Seveso riguarda l'obbligo di nuove misure di sicurezza di una capillare informazione pubblica a livello preventivo stabilendo così il diritto a essere informati sulle sostanze trattate e sulle procedure nel caso di emergenza per lavoratori e cittadini a capo della commissione di dati epidemiologici e del programma di monitoraggio ci fu il mio professor Fara non fu facile dovettero tener conto di una casistica piuttosto limitata tuttavia signori il risultato più significativo riguarda l'incremento devo dire piuttosto limitato e transitorio temporaneo nelle zone più inquinate di neoplasie del tessuto linfatico emopoietico soprattutto in particolare per le donne casi di diabete mellito e poi anche seppure assai leggeri di mortalità per malattie circolatorie si osservano nei primi anni dopo l'incidente ma quelle malattie circolatorie forse è stato sostenuto non erano dovute direttamente dalla diossina c'è chi ha scritto penso al professor Bertazzi l'epidemiologo che ha seguito la popolazione nelle zone inquinate che forse lo sconvolgimento sociale e psicologico è stato un altro fattore assai importante da tener conto sulla verità dello stato di salute delle persone colpite della diossina alla fine ci sembra che sia stato fortunatamente migliore di quanti cattivi informatori di un spessimo sistema comunicativo della maggioranza dei media ha offerto tuttavia questa vicenda ci ha insegnato una spinta decisiva un prodigioso incremento delle conoscenze la tumultuosa evoluzione della specializzazione hanno fatto sì che l'attenzione di noi medici sia sempre più concentrata fino ai diagnostici terapeutici sul singolo organo sul sistema eppure a mio avviso a mio parere questo atteggiamento non è giustificabile o meglio è giustificabile solo nella misura in cui questo principio non infirma l'intero organismo e si riflette sulla posizione del cittadino nella comunità e nelle sue funzioni è difficile dire che la catastrofe paventata non sia affatto verificata ma non ve dubbio che Seveso ci fece ragionare non solo sugli effetti acuti immediati ma in considerazione delle proprietà tossicologiche della TCDD e anche di quelle croniche sulle reazioni tramatrici questo credo sia il punto su cui noi dobbiamo ragionare su cui noi dobbiamo ancora discutere mentre non c'è da discutere che l'unico morto a causa della catastrofe di Seveso su cui la medicina non poteva intervenire se no per decretarne il successo un successo effimero quello di poter decretare la morte una morte su cui non potevamo intervenire non noi medici perlomeno quattro anni dopo questa vittima ha a che fare con la diossina ma non è stata colpita dalla diossina 5 febbraio la mattina del 1980 Paolo Paoletti con tre colpi di calibro 38 venne ucciso da prima linea successivamente anche il dottor Giuseppe Ghetti ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienico sanitario di Seveso fu ferito colpi di pistola e fucile mitragliatore altri nomi dei seguitori dello Stato tra cui il dottor Carreri erano nel frattempo comparsi una lista sequestrata ai terroristi quella morte di quell'uomo mi fa pensare a un'altra vita a quella della poesia come scrive Montale la vita non si spiega né con la biologia né con la teologia la vita è molto lunga anche quando è breve come quella di una farfalla la vita è sempre prodiga anche quando la terra non produce nulla furibonda è la lotta che si fa per rendere impossibile e inutile non ci restava che pescarne l'inconscio ultima farsa di questo nostro morivondo teatro ma andrei lavori forzati chi la professa o chi la segue ormai è chiaro per l'ignaro più sufficiente sia più che sufficiente l'ignaro per abbuiare il buio le mie carte i miei studi le mie opere la mia vita mio padre Giuseppe era medico condotto come suo padre Virginia mia madre persone colte vitali hanno sempre seguito con molto interesse la cultura informati anche di politica ci tenono molto all'istruzione mia e di mia sorella Isabella gli anni degli studi universitari con hobby Francesca ci sposammo era il 31 e nacquero due figlie Paola e Marta questa è la nostra famiglia per la quale la cultura è informazione preparazione teorica esperienza viaggi 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 non solo in Europa anche in luoghi in paesi sconosciuti eravamo a casa ancora prima del 1949 l'anno del mio trasferimento e qui si risperava già aria di cultura aria di arte alle pareti erano appesi quali dei maestri dell'ottocento come Induno Fornara Ciardi vivace ambiente culturale quello di Milano allora io e mia moglie cominciamo ad affinare la nostra passione e il nostro gusto ci avvicinevamo all'arte contemporanea in particolare all'opera di protagonisti del novecento gli anni quaranta molti dei quali tra l'altro erano vivi cominciamo frequentazioni rapporti e conoscenze lo so durante il giorno io mi occupavo delle mie attività universitarie ma appena avevo il tempo appena potevo cercavo di passare nelle gallerie il naviglio il milione l'annunciata e io coltivavo la mia passione per l'arte da queste gallerie proviene la maggior parte delle mie opere che ho incrementato anche con dei dipinti acquistati anche in case d'asta in queste pericolazioni io non ero mai solo mi accompagnava sempre mia figlia le mie figlie anche se frequenti e assidue interessate all'arte abbiamo conosciuto molti artisti abbiamo stabilito amicizie penso a Carrà Campigli Licini e Morandi a Morandi ero particolarmente legato che quando lui scomparve tornavo spesso a Bologna a parlare con le sorelle sono stato anche in contatto con molti collezionisti Wismara Boschi Di Stefano Jucker Mattioli Mazzotta la mia casa insomma si popolava di arte molti mobili sì ho dovuto eliminare molti mobili per lasciare spazio all'arte i primi dipinti sono stati quelli di Arturo Tosi e credo che sia un artista importante qualcuno crede che sia la divisione la rottura con l'Ottocento no a mio avviso secondo i miei criteri non sono uno storico per dirlo ma rappresenta invece la continuità e forse per questo che in quella continuità poi io mi sono mosso con molta coerenza coerenza e rigore come nel mio mestiere di igienista anche per le collezioni coerenza e rigore cercando poi di trovare cosa sarebbe successo poi nell'arte di Pisis Sironi Rosai questa coerenza non riguarda tanto le opere d'arte o io ho fatto di essere medico riguarda la mia vita riguarda il mio modo di essere noi sceglievamo ciò che era bello perché è ancorato al reale questo mi interessava ciò che è bello ancorato al reale questo è bello perché è ancorato al reale non è solo un modello i recettori il contatto con la nostra vita corpi e anticorpi ciò che è bello ancorato al reale ciò che inequivocabilmente immediatamente commuove e affascina tutto questo senza sovrastrutture senza mediazioni eccessive noi non indigevamo in un richiamo nostalgico del passato noi vivevamo il presente amammo e conoscevamo bene dunque tutte le sperimentazioni ma quando dovevamo scegliere corrispondevamo alle nostre scelte partendo da il bello e il spirituale questa idea di bellezza non perse mai vista e rappresentava il nostro reale una fonte di commovente spiritualità traspare quindi da ogni nostro dipinto della collezione questo criterio e così continuiamo continuiamo rispetto al nostro stesso a sentire finché accadde un fatto aprile 21 aprile 1961 telonius musicista si esibisce il teatro lirico di Milano per una fortunata coincidenza in prima fila c'è Giorgio Murandi Murandi segue il concerto e scrive una lettera che io ho letto scrive che ha avuto occasione di ascoltare questo monk di ascoltarlo alla notte e mentre sedeva vicino al palco ancora l'impressione del movimento delle sue dita veloci come bacchette tese ma che invece di muoversi soltanto velocemente scolpivano il ritmo con una economia di notte sorprendente a questo punto Morandi scrive una confidenza di quelle che si fanno di solito degli sconosciuti che in momento della propria vita ci sembrano i nostri migliori amici da circa un mese lavoro nella mia casa di Grizzana a una serie di paesaggi cercando di risolvere un problema di spazio tempo di cromatismo nella mia composizione da qualche giorno ho installato qui il mio cavalletto tra due alberi nel mio giardino scorgendo cercando di scorgere il retro di una casa ma lasciando inutilmente dopo tanta ricerca di ispirazione la tela bianca sul mio cavalletto ragionavo sull'esistenza di una tecnica adatta a tradurre quello che io volevo fare trovare un segno in grado di esprimere il significato di una parola che noi diciamo pittura questa mattina ho capito questa mattina la domanda non ha mai ragione di essere formulata perché la tecnica è un accadimento di una visione interiore non è un modo di rappresentare è un modo di sentire un modo di sentire nella speranza che il nostro sentire poi sia un sentire universale ma se qui finisce sentire di Morandi qui inizia il mio è stato così anche per me il mio modo di sentire la medicina era nutrito da quella speranza ovvero che il mio modo di sentire la medicina corrispondesse a un sentire universale sì lo so io sono ottimista e non ho fretta il tempo lavora per questa verità per queste iniziative l'ottimismo è la strada che conduce meglio e più frequentemente al successo lo so io poi ho anche vissuto molto a lungo e sono in una posizione ormai in quell'età non posso altro che guardare indietro nel guardare indietro non posso altro che scoprire la strada che ho fatto ripida scoscesa una strada di montagna che poi improvvisamente è arrivata a uno spazio a uno spazio pianeggiante e lì in quello spazio ho visto un panorama punteggiato luminoso dai vostri volti dai volti dei familiari degli allievi degli amici è un panorama sereno si attagliano vicende avvenimenti che riguardo con nostalgia ma raramente con tristezza lo so voi direte che questo mio sguardo ancora una volta è accompagnato da ottimismo è vero è l'ottimismo che ha sempre ispirato la mia attività e con questo ottimismo che io ho cercato di dare vita ai corpi e ai corpi una vita grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti